Nel Sannio ha aperto oggi il terzo punto di vaccinazione contro il Covid. Al via le vaccinazioni nell'ospedale di Cerreto Sanita, riaperto dall'ASL proprio a causa dell'emergenza sanitaria. Soddisfatto il numero uno dell'ASL Sanita Gennaro Volpe, che proprio il giorno della vigilia, all'inaugurazione del laboratorio di Via Minghetti, aveva annunciato la partenza della campagna di vaccinazioni anche in Malle Telesina. Sul fronte sanitario preoccupano nel Sannio la risalita del numero dei contagi e si continuano a registrare i decessi negli ospedali per la cura del coronavirus. Due persone, entrambe di Benevento, morte a Capodanno e sulla gravità della malattia il coordinatore provinciale del 118 lancia l'allarme. Rispetto all'inizio della pandemia, purtroppo il numero dei pazienti che arriva in rianimazione è aumentato e si paga un grandissimo contributo di vittime, anche perché la fascia di età si è notevolmente abbassata e quindi non sono più le persone per anziane, che fino a qualche mese fa riuscivano ad uscire indenni dai presidi ospedalieri. Probabilmente sembrerà quasi un assurdo, ma il numero delle persone che si ricoverano è inferiore, ma purtroppo le persone gravi, che hanno delle gravi problematiche respiratorie, poi difficilmente ne escono indenni. Poi un appello. Fare la vaccinazione è un atto d'amore, un atto d'amore per se stesso e per gli altri e dobbiamo entrare purtroppo nella mentalità che tutte queste forme di prevenzione, il distanziamento sociale, le mascherine, continueranno a essere necessarie anche per coloro che si vaccinano.